7. Giunge una lettera di Clarisse. Ulrich non aveva lasciato il suo indirizzo a nessuno, ma Clarisse l'ebbe da Walter, che lo conosceva dall'infanzia. Ella gli scrisse, «Mio caruccio, mio vigliaccuccio, mio uccio! Sai che cos'è un uccio?» «Non saprei spiegartelo. Walter è forse un deboluccio. Il suffisso uccio era sempre sottolineato più volte. Credi che fossi ubriaca quando sono venuta da te?» «Io non posso ubriacarmi. Gli uomini si ubriacano più presto di me. È strano. Ma non so che cosa ti ho detto. Non me ne ricordo. Ho paura che tu ti immagini che io abbia detto cose che non ho detto. No, non le ho dette. Ma volevo scriverti una lettera. Subito. Prima di tutto, tu sai come si aprono i sogni. Qualche volta, quando sogni, ecco che sai. Hai già stato in questo luogo. Hai già parlato con questa persona. Oppure, è come ritrovare la propria memoria. Al risveglio so di aver vegliato. Ho dei compagni di sonno. Ti ricordi ancora di Mosbrugger? Devo raccontarti una cosa. A un tratto mi è tornato il suo nome. Quelle tre sillabe musicali. Ma la musica è inganno. Voglio dire quando è sola. La musica da sola è estetismo o qualcosa di simile. Debolezza di fronte alla vita. Se però la musica si unisce alla vita, allora i muri tremano. E dalla tomba del presente sorge la vita di coloro che verranno. Io non ho soltanto udito le tre sillabe musicali. Le ho anche vedute. Sono emerse dalla mia memoria. Una certezza a un tratto. Dove se sorgano c'è anche qualcos'altro. Una volta scrissi al tuo conte una lettera su Mosbruggen. Come si fa a dimenticare una cosa simile? Adesso vedo. Odo un mondo in cui le cose stanno ferme e la gente si muove. Tu non la conosci da sempre, ma sonante e visibile. Non posso spiegartelo chiaramente, perché finora sono venute fuori solo le tre sillabe. Tu mi capisci? Forse è ancora troppo presto per parlartene. Dissi a Walter Voglio conoscere Mosbrugger. Walter chiese E chi è Mosbrugger? Io risposi L'amico di Ulrich, l'assassino. Leggevamo il giornale. Era mattina e Walter doveva andare in ufficio. Ricordi quel giorno che leggemmo il giornale tutti e tre insieme? Tu hai poca memoria. Non te ne ricorderai. Dunque io avevo spiegato il foglio che Walter mi aveva dato. Un braccio a destra e un braccio a sinistra. Improvvisamente sento un legno duro. Sono inchiodata alla croce. Chiedò Walter. Il giornale non parlava solo ieri di uno scontro ferroviario presso Budweiss. Sì rispose lui Perché me lo chiedi? Una cosa da poco? Un morto o due? Dopo una pausa io dico Perché anche in America c'è stato uno scontro. Dov'è la Pennsylvania? E lui non lo sa. In America dice Io dico I macchinisti non fanno mai scontrare apposta le loro locomotive. Lui mi guarda Era evidente che non mi capiva. Certo che no e gli sentenzia. Domando quando viene Sigmund a trovarsi. Walter non lo sa bene. E adesso vedi si capisce che i macchinisti non fanno scontrare le loro locomotive per fare un disastro. Ma allora perché lo fanno? Te lo dirò io. In quella rete mostruosa di rotaie scambi e segnali che si tende tutto intorno al globo noi tutti perdiamo la forza della coscienza. Perché se avessimo la forza di riesaminarci e di riconsiderare il nostro compito faremmo tutto il necessario ed eviteremmo l'infortunio. L'infortunio è nostro a restarci al penultimo passo. Naturalmente non ci si può aspettare che Walter capisca subito che io credo di poter acquistare questa immensa forza della coscienza e dovetti chiudere gli occhi perché Walter non vedesse il lampo che vi guizzava dentro. Per tutte queste ragioni stimo il mio dovere per la conoscenza di Mosbrugger come sai mio fratello Sigmund è medico lui mi aiuterà. L'ho aspettato. Domenica venne da noi. Quando lo si presenta a qualcuno egli dice ma non sono né ebreo né musico queste sono le sue freddure. perché siccome si chiama Sigmund non vuole essere preso né per un ebreo né per un musicomane. È stato concepito durante un'ubriacatura wagneriana. Impossibile farmi dare una risposta assennata. Mentre parlavo brontolava a sciocchezze. Tirò un sasso ad un uccello e col bastone frugava nella neve. Voleva anche scavare un sentiero con la vanga. Viene spesso da noi per lavorare. Dice che non gli piace stare a casa con la moglie e i bambini. Strano che lui non l'abbia mai incontrato. Voi avete le fleur du mal e un orto d'erbe mangerezze dice. Molte volte gli ho tirato gli orecchi e gli ho dato dei pugni nelle costole ma non è servito a niente. Poi in casa raggiungemmo Walter che naturalmente sedeva al piano e Sigmund si era puntato su le falde della giacca e aveva le mani sporche fino ai polsi. Sigmund gli dissi davanti a Walter quando è che capisci un pezzo di musica. Lui schignazza e risponde mai. Sì quando lo fai tu stesso dentro di te dissi io come fai a capire una persona? Deve rifarla. Questo è il grande segreto Ulrich. Devi essere come quell'altro ma non penetrando tu in lui sebbene lui in te. Noi lo riscattiamo lo liberiamo questa è la forma attiva intervenire nelle azioni umane ma adempierle e innalzarsi sopra di esse. Scusa se mi dilungo tanto ma i treni si scontrano perché la coscienza non fa l'ultimo passo i mondi non emergono se non li attiriamo un'altra volta te ne parlerò più diffusamente l'uomo geniale ha il dovere di dar l'assalto ne ha la forza inquietante ma Sigmund quel vigliacco guardò l'orologio e chiese se si andava a cena perché lui poi doveva tornare a casa sai Sigmund si tiene sempre a metà strada tra lo scetticismo del medico esperto che non stima granché la possibilità della sua professione e lo scetticismo dell'uomo moderno che al di là della tradizione spirituale è già riapprodato all'igiene della semplicità e del giardinaggio ma Walter esclamò per l'amor di Dio perché fate simili discorsi cosa volete insomma da questo Mosbrugger e questo ha servito perché allora Sigmund disse o è un pazzo o un delinquente questo è vero ma se Clarissa si immagina di poterlo redimere io sono medico e devo permettere anche al capellano di immaginarselo li scattare dice Clarissa beh perché non lo potrebbe almeno vedere si spazzolò i calzoni con aria tranquilla e si lavò le mani a cena poi combinammo tutto e infatti andammo dal dottor Friedenthal l'assistente che mio fratello conosce Sigmund spiattellò subito e si assumeva lui la responsabilità di introdurmi sotto mentite spoglie dicendo che ero scrittrice e desideravo vedere l'assassino ma fu uno sbaglio perché a una richiesta così precisa l'altro non poteva che rispondere di no anche se lei fosse Selma Lagerlef sarei felice della sua visita e naturalmente lo sono ad ogni modo ma qui si tiene conto soltanto degli interessi scientifici era molto carino passare per una scrittrice lo fissai negli occhi e gli dissi in questo caso sono più che la Lagerlef perché non ho scopi di studio e lì mi guardò e dichiarò l'unica sarebbe che lei si presentasse al direttore della clinica con una presentazione della sua ambasciata ma aveva preso per una scrittrice straniera e non aveva capito che ero la sorella di Sigmund alla fine decidemmo che avrei visto non il malato ma il prigioniero Mosbrugger Sigmund mi procurava la raccomandazione di una lega benefica e un permesso del tribunale dopo Sigmund mi raccontò che il dottor Friedenthal giudica la psichiatria più un'arte che una scienza e lo definì il direttore di un circo di demoni a me però questo non dispiace il più bello è che la clinica ha per sede un vecchio convento dovemo aspettare in un corridoio l'aula o un'ex cappella con grandi finestroni e io vi potevo guardar dentro dal cortile gli ammalati vestivano di bianco e sedevano in cattedra vicino al professore e il professore si chinava verso di loro con molta cordialità io pensavo forse adesso porteranno dentro Mosbrugger sentivo che allora sarei volata dentro la sala attraverso quelle grandi vetrate tu dirai che non so volare saltar dentro la finestra allora no questo no perché questo no me lo sentivo spero che tu ritorni presto mai ci si può esprimere tanto meno per lettera sotto era la firma vigorosamente sottolineata Clarisse e Grazie a tutti